Aiutare i giovani del territorio affinché possano realizzare qui il loro futuro senza dover necessariamente lasciare la loro terra. E' quanto si propone di fare la diocesi di Trani attraverso un progetto di microcredito per le nuove imprese, partito grazie ad una convenzione firmata questa mattina nella sede della Curia con il Banco di Credito Cooperativo di Canosaloconia. A mettere nero su bianco questo nuovo patto per i giovani, l'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo, il presidente della BCC Antonio Sabatino e il direttore generale Luca Loconte. Materialmente grazie ad un fondo di circa 25 mila euro si potranno finanziare start-up e progetti di imprenditorialità giovanile. La diocesi attraverso il centro diocesano Progetto Policoro avrà il compito di esaminare le richieste. Quelle più meritevoli saranno trasformate in una relazione di finanziamento che poi sarà valutata dall'istituto di credito. Ad essere finanziate saranno le attività dei giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il bando sarà avviato verosimilmente alla fine dell'estate. Già diverse diocesi italiane si sono espresse impegnate in questa direzione. Da oggi anche la nostra diocesi si rende disponibile attraverso questo accordo convenzione con la banca a venire incontro a delle start-up avviate da parte dei giovani ma anche per stare vicina e per dare un contributo che possa favorire poi un discorso di auto imprenditorialità. La convenzione avrà una durata di tre anni ma se il progetto andrà avanti sarà possibile nel tempo aiutare moltissimi giovani del territorio che potranno trovare a casa loro una possibilità concreta di lavoro. E' giusto che i giovani non debbano soltanto pensare a un futuro fuori dal nostro territorio, possono cercare di avere le loro opportunità, mettere a frutto la loro esperienza, le loro conoscenze con i supporti che in questo momento la diocesi di Trani che sta realizzando questo progetto e che ci ha invitato come banca del territorio a cercare di sostenere.